Sono Claudio Ferrante, sono docente del laboratorio di marketing e management del prodotto musicale presso l'Università Cattolica di Milano. Sono presidente e fondatore di Artist First, una società di distribuzione fisica e digitale che nel 2009 ha in qualche modo influito sul cambiamento delle dinamiche all'interno dell'industria musicale italiana. Sono un imprenditore nel campo musicale perché mi occupo anche di altre aziende che lavorano con brand, sponsorship e management all'interno dell'industria musicale. Insegnare in questo master per me è importantissimo perché grazie a questo io riesco ad individuare dei giovani che possano approcciarsi al mondo dell'industria attraverso l'inserimento nelle aziende che rappresento. E quindi può in questo modo iniziare un percorso formativo vero, a contatto con la realtà, a contatto con il pragmatismo delle cose che sostanzialmente succedono. Il percorso per quello che mi riguarda è un laboratorio in cui parliamo dei casi di lanci di marketing discografico degli ultimi anni, in cui ci sono anche degli incontri con manager, artisti, in cui si possa guardare, toccare con mano e soprattutto interloquire con i protagonisti dell'industria musicale italiana. L'artista oggi ha sempre più bisogno di nuove professionalità, di nuove figure, di nuovi stimoli. Credo che questo master possa essere davvero il vero contenitore dal quale riuscire a pescare, un po' come dei talent scout, dei giovani da inserire e da far diventare figure professionali nel mondo di domani.